provincia di Avellino. Siamo tornati per vedere, ma il sindaco di Cervinara questa volta ha mantenuto la promessa, vedete queste sono le baracche, vi ricordate le baracche dei terremotati dell'80, 25 anni queste baracche, ora avviciniamoci, vediamo, sono ancora qui, sembra che non ci sia più nessuno, guardate, in questa baracca non c'è nessuno, vediamo quest'altra, ecco vedete, anche in questa non c'è più nessuno, vedete, noi siamo contenti, speriamo che tutti coloro che erano in queste baracche abbiano preso finalmente possesso degli alloggi, che poi si trovano a pochi metri, guardate, andiamo, proviamo a entrare, insuoniamo perché, permesso, è aperta la porta, buongiorno signora, come sta? Si ricorda, mingui falco di striscia, l'ultima volta che l'abbiamo vista, insomma, era ancora le baracche, avete preso, avete preso possesso della casa, degli alloggi, non mi sembra verra che ci siamo trasferite qua, perché a volte, è una casa, si piange anche di contentezza, e ringraziamo immensamente alla striscia della notizia, che se non è arrivata per voi qua si dormiva ancora, nelle baracche, dovete stare ancora nelle baracche, saremo tornati anche un altro, non c'è problema, noi torniamo sempre, ma vi siete trasferiti tutti, cioè tutti coloro che vivevano nelle baracche, quasi tutti, quelle che erano nel baracco, quelle che poi stavano nelle casse, certamente, ma vengono qua, quelle che stavano nelle baracche, comunque, tutti qua, beh, signora, come avete fatto a vivere 25 anni in quelle baracche? Con la forza di Dio, che non ci ha abbandonato e ci ha mandato a voi, se rimborso ancora, eh, noi siamo contenti perché, possiamo voglio dirlo, la missione è compiuta, e diciamo la verità, anche il sindaco, questa volta, ha mantenuto, ha mantenuto la promessa, anche perché se il sindaco non avesse mantenuto la promessa, eh, mi sarebbe arrivato un altro bel provolone, un po' più grosso, questa volta, con tutto lo scontrino, eh, stavamo a fare un bel salame vicino, eh, pure un salame vicino, va bene, amici di striscia, siamo contenti, eh, da Cervinara, provincia di Bene, ah, Avellino, Avellino, è tutto, mingo, il buon Fabio! Vi m'hai rita no tanto, tanto geneh elezioni, io stesso nome, compensate dollari!